Come abbiamo sempre detto, la forza di questo governo sarà nel fare le cose per cui è nato. Mi sembra che sia un segnale importantissimo, quello di aver evitato che il primo luglio aumentasse l'IVA, l'abbiamo prorogata e spostato l'aumento al primo ottobre, ovviamente con l'impegno in un lavoro comune con il Parlamento di spostare lo stesso aumento al primo gennaio del 2014, perché c'è una sola ragione, qualunque altro aumento di tassazione, diretta o indiretta, in particolare l'aumento dell'IVA porta solo alla recessione. Oggi abbiamo bisogno di ridare fiducia ai cittadini.